Continuando su questa onda dell'essere freelance o fare il freelance, ci parla del presidente freelance, addirittura. Pronti? Bene, intanto buongiorno a tutti. A me non è il problema del microfono nella direzione, mi è venuto il terrore dello sputacchio del microfono, perché è l'unica cosa che mi è rimasta in mente. Allora, provo a raccontare, come dire, è una posizione abbastanza difficile, perché fare il capo, poi anche adesso non abbiamo parlato tanto bene, però provo a raccontare un po' che cosa vuol dire essere il presidente di un'impresa e in questo caso ho cercato di partire dall'idea che dovevo trasferire a tutti voi che fosse qualcosa di interessante e non noiosa. Quindi questa sarebbe stata la copertina di una presentazione noiosa, cioè molto ufficiale, classica, con il nostro logo di Coop. La cosa che però mi sono preoccupato subito di rappresentare era che dovevo spiegarvi intanto che cos'è Coop, perché tutti voi più o meno immaginate che Coop sia un'unica entità. Allora, siccome ci sono anche dei colleghi di Coop Alleanza qua, i supermercati sono sempre a marchio Coop, ma in realtà in Italia ci sono 100 cooperative che hanno imprese che detengono il marchio Coop. L'idea che quindi mi sono fatto era quella di provare a spiegare che cos'è Coop di cui sono presidente e non volendo esagerare, proprio perché con gli amici di Coop Alleanza abbiamo un bel rapporto, e io ho iniziato pensando di dirvi che cosa non è Coopreno e quindi, forse, ok, non siamo un impero bizantino, quindi bigliana, tranquilla, non vogliamo essere un impero bizantino, non siamo un altro impero persiano, perché abbiamo pensato, abbiamo molte aziende vicine a noi che sono molto più importanti, e infine, forse, ok, non siamo neanche un impero britannico, nel senso che non abbiamo una rete così diffusa da potersi sentire una grande impresa. In realtà noi abbiamo 42 supermercati, quindi non siamo una grandissima impresa. Detto questo, cioè quello che non siamo, ecco, mi è venuta in mente l'unica immagine per rappresentare Coopreno rispetto a questi imperi è questa. Cioè noi siamo un po' più questi, cioè un villaggio gallico contornato da imperi. Detto che cos'è Coopreno, quindi questa catena di supermercati, vorrei provarvi anche a dire come sono arrivato a fare presidente e un po' la mia storia. Innanzitutto, non so se si sentirà questo video audio, ma lo racconto, facendo un po' di outing. Giacomo Vitali è un uomo innamorato della vita, ama il cibo buono e sano, i libri, le passeggiate all'aria pulita. Nel mondo d'oggi purtroppo c'è avidità, violenza ed intolleranza. Un giorno entrò alla Coop. La posso aiutare? Dove sono? Ma dove sono, capitano? Sin dal primo momento ebbe la sensazione di trovarsi in un ambiente diverso, pieno di calore umano e di rispetto per tutti. Sembrava che la gente lo conoscesse da sempre. Non gli va, pennello! Finiti tutti i suoi acquisti, giunto il momento d'andare via fu preso dal panico. Non voglio andare via! Non voglio tornare là fuori! Io voglio rimanere qui alla Coop! E così fece. Vitali traslocò alla Coop e si sposò in questo giardino delle delizie. Lì visse molti anni, fece crescere i suoi figli nel reparto banane e li mandò a scuola alla sezione latticini. Questa è la vita che ho sempre desiderato. Esiste davvero? Forza ragazzi! Bene, questo spot che ho visto a vent'anni, quindi faccio un po' di Audi, mi diceva bello, cioè onestamente è uno spot che è un po' una sminchionata, anche se l'ha fatto Woody Allen. Quindi, cioè, non è una cosa proprio... Però l'amore per la Coop nasce da questo video. Dopodiché ho iniziato, quindi come tutti, ad avvicinarmi al mondo del lavoro e in particolare alla Coop facendolo stagionale durante l'estate. Sono i lavori che ognuno si organizza per portare avanti la propria vita e incassare e quindi bene il Coop iniziando da... Sì, facendo stagionale d'estate. Dopo la laurea invece, in economia e commercio, ho trovato l'opportunità di fare, diciamo, di mettere a frutto i miei studi economici, quindi iniziando a fare dichiarazioni dei redditi. Dopo un po' di tempo però, bene, dopo tanti anni però, come dire, di precariato, a un certo punto mi sono stancato e ho deciso di protestare. Allora, questa slide è un po' ingannevole perché non ho deciso di protestare andando al sindacato, lavoravo al sindacato. E quindi questo era, ahimè, il mio ruolo e da questo punto di vista ho però, mi ricordo ancora quel giorno, detto, siccome erano dei contratti a progetto, sono andata al mio capo e ho detto, sì, adesso rinnoviamo il contratto. E mi ricordo che feci una bella fatica a dire, Giorgio, io vorrei venire solo tre giorni alla settimana anziché cinque. Quindi mi guardò abbastanza male, ma feci una scelta assolutamente di fondo. Quindi decido di cambiare e di, come dire, affrontare con fatica quello che però era un percorso che mi piaceva, cioè lavorare in Coop perché in Coop vedevo veramente dei valori in cui mi sarebbe piaciuto lavorare. Decido di cambiare e, come dire, mi faccio tutta la trafila, ve la faccio molto corta, ho iniziato mettendo sulle scatolette, iniziando a fare dei progetti, fino a che nel 2014 ho avuto l'onore e l'opportunità di diventare presidente della mia cooperativa. Non è stata una scelta facile da parte anche dei vecchi dirigenti perché, come dire, in Italia è inversamente proporzionale il fatturato dell'impresa rispetto all'età con cui uno, come dire, diventa, ha un ruolo di responsabilità. Diventare presidente di una cooperativa che fa 170 milioni di euro a 41 anni in altri posti è abbastanza scontato, da noi non lo è. Quindi io devo dire grazie comunque a chi mi ha dato questa opportunità e ho cercato di trasferire, e qua arriviamo al tema della giornata, alcuni dei principi in cui ho sempre creduto, portandoli in questo ruolo che ovviamente ti mette a disposizione la possibilità di fare delle scelte e nel proseguio delle cose che ho messo ho cercato di non portare la mia creatività o il, come dire, la mia curiosità o il mio modo di lavorare in gruppo, ma di permettere a tutte le persone che lavoravano con me di avere anche loro delle opportunità per sviluppare queste cose che forse possono sembrare poco attinenti con le attività gestionali di un'impresa. Io invece credo, e questo è stato anche uno degli, come dire, motivi per cui abbiamo, come dire, ho scelto di venire sempre tutti gli anni a vedere anche il freelance camp perché è un'occasione di crescita personale, secondo me si trasferisce molto anche nel mondo del lavoro. Fare il presidente ha degli indubbili vantaggi. Questa era una slide per la Francesca Marano che dice che non si possono dire parolacce, invece da presidente non c'è nessuno che ti contesta quando sei arrabbiato e questo sicuramente è una cosa importante. Detto questo però ci sono anche delle indubbie preoccupazioni. Fare il presidente, come dire, spesso e volentieri ti ritrovi a alzarti di notte e 8.03 non è un orario di sveglia, 8.03 sono il numero dei dipendenti della mia cooperativa. E vi assicuro che se uno ci tiene, il sapere che ogni scelta che faccio può influire sulla vita di queste 803 persone non è, come dire, una responsabilità di poco conto. Prima si parlava del ruolo che uno ha al capo, come lo vuole svolgere. Io da quando sono diventato presidente alcune scelte importanti le ho prese. Degli 803 dipendenti, 150 sono diventati a tempo indeterminato in questi anni. Erano magari degli anni che lavoravano da noi e non erano stati stabilizzati. Ho fatto una scelta, ho fatto una scelta coerente, non di gentilezza, di bontà, perché poi alla fine sono il presidente di un'impresa, ma da questo punto di vista era importante. Questo rappresentava me. E per finire, mi sono reso conto che in questo ruolo, portando alcune attività, posso fare qualcosa di importante per me in termini di coerenza. Cioè, ho sempre detto che avrei fatto questo ruolo di presidente finché comunque fossi stato in qualche modo contento di me stesso. Questa è una foto che rappresenta, ad esempio, delle borse di studio. La nostra cooperativa ha 30 anni e non erano mai state fatte borse di studio per i dipendenti. In quella dopo, e finisco, c'è invece un evento che abbiamo iniziato a organizzare, che è un bootcamp, dove anche in questo caso ho cercato di trasferire anche la fortuna di ascoltare alcune storie. Molte di queste le ho ascoltate anche da persone qui al Freelance Camp, portando storie e esperienze di queste persone in un contesto che non c'entra niente con i supermercati e ritrovandoci comunque anche lì in 200 persone a farle ascoltare ai miei colleghi di lavoro. Poco, tanto, però per me è importante anche in questo caso essere coerente con la contaminazione delle idee. E infine, da questo punto di vista, io dico sempre con i miei colleghi, è chiaro che affrontiamo un mercato molto difficile e le scelte di ogni vita, anche personale, è complicata. Però ciedo sempre di guardare avanti dicendo avanti tutta, perché alla fine noi dobbiamo sempre comunque cercare di non subire le condizioni in cui siamo, ma dobbiamo cercare di invece proseguire. E l'ultimo proprio slide, perché da questo punto di vista ovviamente le scelte fanno molto spesso il paio con delle paure, scelte, la paura di fare una scelta giusta o una scelta sbagliata, mi accompagna sempre questo principio. Quindi da questo punto di vista cerco di toglierle il più possibile, di fare una scelta coerente, che sia giusta o sbagliata, alla fine purtroppo non dipende sempre solo da noi, ma questo almeno è lo stile che sto cercando di portare avanti. Quindi il diversamente grande, io dico sempre con i miei colleghi di lavoro, nasce dall'idea che ci dobbiamo sentire grandi, perché altrimenti, come dire, rinunciamo troppo a noi stessi, qualunque tipo di persona siamo, l'essere diversamente perché ognuno deve metterci un po' del suo. Grazie. Grazie Andrea, grazie davvero.